ciao a tutti oggi realizzeremo uno smoothie o frullato e servirà per darci energia prima dell'allenamento ho pensato di aprire questa sezione perché comunque anche l'alimentazione molto utile prima dei workout e sicuramente un po di frutta e verdura non fanno altro che migliorare la performance sportiva quindi realizzeremo un frullato veramente in pochissimi minuti solo frutta e verdura di stagione allora andiamo a vedere di cosa si tratta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti